L'insegnamento del passato per scrivere pagine importanti nel presente e futuro. La Renato Curiangolana vuole dare continuità al successo di Penne e si affida i soliti noti. Farias, Farindolini e Ruggeri a supporto di Miani. Dall'altra parte, Mr. Carlucci, che chiede una scossa ai suoi dopo 5 K.O. consecutivi, deve fare a meno di Di Vincenzo e Troiano. Ce la fa felice, rientra Margagliotti dopo la squalifica. In attacco Marinelli fa coppia con Colitto. Fischia Marco Amatangelo di Sulmona. La cronaca di un primo tempo frizzante si apre con una bella azione dell'angolana. Faria scolpisce il palo e grazie alla squadra rosso-blu. Sugli sviluppi di un angolo Cichella va a segno, ma il direttore di gara annulla per una spinta del numero 6 di casa. La Virtus Cupello affida le giocate a Margagliotti. Qui la girata di Conti viene bloccata da Puddu. Al 35esimo i padroni di casa passano. Dopo una palla recuperata in difesa, Milizia spinge sulla fascia e trova l'assist per Farias, che non perdona. Finalizzazione perfetta per l'ex Pineto, che sigla la sesta rete in campionato. Sul finale di tempo Marinelli deve abbandonare il campo per un problema fisico. La Renato Curiangolana va vicina al raddoppio, quando il giovane portiere ospite Di Giacomo smanaccia verso Lombardi, che non concretizza. Nella ripresa, clamorosa pallagol sciupata per la formazione di Rachini. Farias apparecchia per Ruggeri, che va a concludere altra deviazione del 10, con la sfera che termina incredibilmente alta. Passano pochi minuti e Felice si erge a protagonista, togliendo il pallone dalla porta, sul tiro a colpo sicuro di Lombardi. Sul successivo angolo, fallo di mano di Margagliotti e calcio di rigore per i Nerazzurri. Dal dischetto si presenta Miani, che è glaciale e allunga sul 2-0. Il cupello non si scompone e riapre i giochi. Lunga rimessa laterale, Conti in girata di mezzo alle distanze e tiene vivi i suoi. E infatti il miglior momento degli ospiti. Margagliotti riconquista il pallone, Napolitano sceglie la soluzione personale e sbaglia. Sul calcio d'angolo, Felice arriva prima di tutti, ma Puddu riesce a parare. L'angolana riprende in mano le operazioni. Spiovente di Lombardi va a vuoto di Giacomo e Miani da due passi manda a lato. Il 3-1 è solo rimandato. Da una respinta corta di Caniglia, Farindolini prende la mira e spara. Il colpo della tranquillità. La Renato Curi-Angolana mostra i muscoli. Il cupello, dopo un grande avvio di stagione, prosegue il momento negativo. Mister Carlucci, è arrivata una sconfitta sul campo dell'angolana, qui a Città Sant'Angelo, però la prestazione l'avete fatta, avete costruito anche diverse occasioni. Il vostro momento migliore è stato quando avete riaperto la partita e poi il 3-1 vi ha tagliato le gambe. Sì, sì, effettivamente è così, ma se andiamo ad analizzare il primo tempo, al 35esimo c'è stato il primo tiro in porta e abbiamo preso il gol. Ultimamente ci capita spesso questo, noi avevamo costruito qualcosa, però almeno oggi c'è stata una reazione, infatti dopo il 2-0 siamo rientrati in gara col 2-1, nel nostro momento migliore abbiamo avuto anche la possibilità di fare il 2-2, ci hanno fatto il 3-1 e possiamo dire che lì la partita si è chiusa. Oggi c'è stata una reazione a livello di cattiveria e a livello di orgoglio, quindi aspettiamo la prossima settimana per rifare un'altra partita e per cercare di migliorare. Una squadra incerrottata, anche oggi due infortunati, come stanno i ragazzi? Siamo un po' corti e oggi sono stati altri due problemi, Vito Marinelli è uscito, è un problema al ginocchio, speriamo che non sia nulla di che, è lo stesso Cardinale. In questo momento stiamo così, però dobbiamo stringere i denti, andare avanti e sperare nel meglio. Mister Raghini è un successo che dà continuità e soprattutto una boccata d'ossigeno in classifica, un successo meritato. Sì, è stata una partita dominata all'inizio e alla fine, sappiamo di incontrare una squadra in difficoltà che comunque non dimentichiamo che ha fatto 7-8 vittorie all'inizio del campionato, quindi una squadra che ci poteva mettere in difficoltà. Noi siamo stati concentrati, abbiamo creato tante palle gol, siamo andati sul doppio vantaggio, però dopo purtroppo il calcio ha il minimo errore, abbiamo ripreso il gol del 2-1, l'unico rammatico è quello di non averla chiusa prima, però ripeto, sono contento per loro perché piano piano cominciano a vedersi dei miglioramenti e anche per il morale è importante perché comunque poi ti fa lavorare bene in settimana e ti fa affrontare bene le partite successive.